Presidente Marco Vecchio, come ogni anno si celebra questo Safety Day che poi in realtà per voi è una settimana di appuntamenti in cui quella che è l'attenzione alla sicurezza che per tutto l'anno portata avanti in questa settimana viene portata al suo massimo livello con la valorizzazione di molti percorsi, in particolare quelli dei dipendenti che durante l'anno apportano delle migliorie che a quanto abbiamo visto poi si rivelano decisive. Sì, è un bel giorno, è bello pensare che in tutto il gruppo, in tutto il mondo, oggi si parla di sicurezza in tutti gli stabilimenti del gruppo. Noi siamo il più grande quindi non basta un giorno e come al solito abbiamo cominciato lunedì, finiremo domani con un evento tra l'altro formativo dove abbiamo anche invitato le scuole, su un tema a cui teniamo molto c'è l'utilizzo corretto del cellulare, in particolare sull'auto e sulle moto. E' stata una giornata ricca come avete visto anche voi, in particolare si è realizzato il sogno che era un nostro sogno avendo avuto la possibilità di realizzare la nuova infermeria, una nuova infermeria che vogliamo sia solo luogo di prevenzione non luogo poi di cura per postumi incidenti e adesso abbiamo appena chiuso le premiazioni per i progetti Kaizen sulla sicurezza che sono oramai parte cultura di questo stabilimento e lì capisci dove dal basso, da qualsiasi operatore, possono vedere idee che non solo migliorano la sicurezza in fabbrica ma addirittura tecnicamente trovano soluzioni per produrre meglio e al minor costo. Sono soluzioni che poi permettono anche di innovare, di apportare delle migliorie senza costi praticamente per l'azienda grazie alle intuizioni di chi lavora ogni giorno. Ai dipendenti questa spinta di impegnarsi in questa cosa cosa glielo dà? No, glielo dà il fatto al di là di ricevere oggi il riconoscimento, credo nella maggior parte di loro quella di preservare la propria salute e la propria sicurezza cercando poi di sfidare nel futuro e trovare soluzioni a costo zero che poi portano solo e anche soprattutto risparmi per l'azienda ma l'ho sempre ripetuto, un'azienda che investe sulla sicurezza risparmia non è vero che costa di più tant'è che gli stessi premi dell'assicurazione obbligatoria scendono quando e allora quando c'è politica di sicurezza e di diminuzione degli infortuni sul lavoro. Sono preoccupato però, ho appena ascoltato le statistiche fatte due giorni fa proprio dall'Ineil dei primi otto mesi e purtroppo gli infortuni sul lavoro in Italia sono in crescita sono in crescita del 5% il dato di quest'anno, mi fa paura ascoltare che ogni giorno muoiono tre persone sul lavoro in Italia è veramente qualcosa che ti colpisce il cuore. Stiamo cercando di seminare sicurezza anche sui ragazzi, sulle scuole il primo evento di quest'anno di alternanza scuola lavoro a fine ottobre sarà proprio sulla sicurezza e in particolare anche i ragazzi dell'alternanza scuola lavoro ci hanno regalato dei firmati che domani vedremo in questo convegno dove ci dimostrano come la vedono loro e che suggerimenti ci danno su questo. In ultimo, come sempre ci fa piacere, abbiamo ricevuto quest'anno 100 disegni dai bambini, i bambini nostri e non solo nostri perché avevamo lanciato questa iniziativa anche per i bambini di Civitella del Tronto questa comunità con cui oramai siamo di fatto gemellati, che ci hanno regalato dei disegni bellissimi ci sarà tempo e modo di ringraziare i bambini di Civitella nella festa di Natale, quella solita nostra di fine anno dove li inviteremo qui, li premeremo, saranno con noi, davvero li ringrazio per questo regalo che ci hanno fatto e che poi farà parte del calendario 2018, come sempre, che ci ricorderà tutti i giorni dell'anno quanto sia importante la sicurezza. Questa giornata sulla sicurezza, questi progetti che guardano al futuro, sono anche il modo per dire a tutto il gruppo San Salvo è una realtà forte, importante, insomma qui ci stiamo, ci stiamo bene e vogliamo andare avanti. Sì, è anche questo, è anche un modo per dimostrare all'azionista, come dissi già l'anno scorso, proprio nel discorso di Natale che noi le cose le vogliamo fare, le sappiamo fare e quindi prima o poi qualcuno deve meritarci di farcele fare.